Nella nuova diretta del reality show, si svelerà chi tra Grecia col Menares, Samira Lui, Rosy Cine e Valentina Modini dovrà dire addio alla casa più famosa d'Italia. Ma c'è un'incredibile sorpresa nel frattempo, Samira Lui sembra essere già impegnata con un evento organizzato per domenica 29 ottobre. Come è possibile? Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. L'atmosfera nella casa del grande fratello è carica di tensione, con le dinamiche tra i concorrenti che si fanno sempre più complesse. Ma questa sera, le nomination sono il fulcro di tutto. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi deve restare e chi deve andare attraverso il televoto, che verrà chiuso in diretta da Alfonso Signorini. I concorrenti tengono il fiato sospeso, consapevoli che la loro permanenza nella casa potrebbe giungere al termine. Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Ma la sorpresa arriva quando scopriamo che Samira Lui potrebbe essere eliminata stasera. Un'incredibile notizia che ha fatto rapidamente il giro del web, e non solo a causa dei sondaggi che sembrano darla per spacciata, ma soprattutto perché sembra che abbia già un evento organizzato per domenica 29 ottobre. Come è possibile? È stato lo scoop dei nostri esperti di gossip, Amedeo Venza, Dianira Marzano e Alessandro Rossica, a sollevare questo mistero. Ma se è ancora nella casa del Grande Fratello, come farà a presenziare a un evento domenica prossima, scrivono. Cosa ne pensate? È già tutto scritto e programmato? Scrivetelo nei commenti. L'evento organizzato, noto come Tutto Sposi, ha anticipato una sfilata della nuova collezione degli abiti da sposa con la partecipazione di Samira Lui il 29 ottobre alle ore 19. Ma la domanda che tutti si pongono è, come ha fatto Samira a confermare la sua partecipazione a un evento senza sapere quanto tempo avrebbe trascorso nella casa di Cinecittà? I sospetti si moltiplicano e il gradimento della geffina sembra subire una brusca caduta sui social. Una storia da seguire attentamente. Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia.